Dopo gli ingenti danni causati dal maltempo nel mese di febbraio scorso, sono pronti per essere spesi 400.000 euro messi a disposizione dalla regione Abruzzo per effettuare interventi strutturali, come scogliere, pennelli e interventi non strutturali di ripascimento sulla costa norte del comune di Alba Adriatica. Una situazione su cui è intervenuto il consigliere regionale capogruppo della Lega Pietro Quaresimale, che ha invitato l'amministrazione costiera al Benza ad accelerare l'iter della presentazione del progetto definitivo, soprattutto visto e considerato che l'estate è oramai le porte. Ho fatto un approfondimento con gli uffici della regione, riscontrando che mancavano ancora i progetti definitivi e quindi ho sollecitato un attimino gli amministratori sulla costa affinché potessero presentarli e quindi poter iniziare con i lavori, anche perché siamo alle porte della nuova stagione estiva e quindi per scongiurare il pericolo che la stagione possa avere dei pregiudizi non ho fatto altro che sollecitare questa cosa. Quindi diciamo che abbiamo sui 400 mila euro per la parte nord di Alba Adriatica che è stata appunto pregiudicata da quegli eventi di febbraio, quindi sicuramente poi il sindaco ha detto che stanno comunque provvedendo e questa sicuramente è una buona notizia che mi ha dato il sindaco di Alba Adriatica e quindi speriamo che prima che scatti l'ordinanza di pallinazione del primo giugno possano essere affidati questi lavori in modo appunto di salvarla stagione, soprattutto la parte nord di Alba Adriatica. La cosa importante è che i fondi già ci sono, già sono disponibili? Sì, i fondi ci sono, 100 mila euro del vecchio annualità più ci sono 300 mila euro che l'aggiunta attuale ha elargito a favore di Alba Adriatica.